Ragazzi buongiorno, benvenuti a Rifugio Cacciatore, 1821 metri, dove siamo? Odolumiti di Brenta. Ragazzi siamo arrivati a Rifugio Agostini, siamo ai piedi degli Odolumiti di Brenta e la nostra meta, come d'attitolo, sarà le 5 d'ambiezza. Quando il pass si larga un'altra volta, si passa sotto i tetti, qua, delle idee più difficili perché qua si arrabbica. Al fine di questa cenge si trova il canalino dove ci sono anche i denti d'ambiezza e da lì si comincia a salire. Vamos! Oh, I guess I've never known Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you And I'm the only one who speaks here on There are the things I want to know Secret start in your heart's asleep Siamo da varie cengette, caminetti, passaggi di secondo e terzo grado Siamo da un calcolo a 200 metri e a cima Calcolo spanometrico Quanto manca a Rifugio? Siamo quasi arrivati alla vetta della cima d'ambiezza e sono sulla cresta finale Siamo arrivati a cima d'ambiezza, 3095 metri per i miti di Brenta Cima Tosa Siamo arrivati all the things we've never shown Cima Tosa All the things we've never found